una partenza troppo figa salve a tutti ragazzi sono endmieluno quindi niente volevo fare una intro epica solo per dirvi che niente farò video sono sempre vivo comunque filmando il video c'è qualcosa lì devo raggiungerlo assolutamente però prima dobbiamo fare i nostri test un razzo già va bene iniziamo così a capire qua come funziona tutto se non ti ascolto inutile anche se ci prova si ok mettiamo quante ne possiamo ok iniziamo l'esagerazione mettiamoli così un pochino più realistico quindi mettiamo un pochino grosso però dai su realistico guardate si sta tenendo vabbè forse dovevo mettere qualche controllo robotico vabbè no già c'è forse di base di suo non lo so ora proviamo allora mettiamo a massimo partiamo vediamo quanto è pesante vabbè non è che ci stiamo riuscendo vai continuo ad andare in alto no cosa stai facendo no no valedizione o no si sta iniziando a sballare stiamo precipitando come al solito disattivare i motori non lo so manco come si spengono ok ora come faccio stabilizzare qua la navicella non lo so proviamo andare con calma non ci riesco minimamente a controllarla questa maledetta navicella chi l'ha progettata a no vero io è andato malissimo non caspita esploso tutto eh qui c'è rimasta la batteria e un paio di detriti schifo finito malissimo pronti via non parte troppo pesante ok no non non riesce a partire minimamente che schifo ma levali ma seriamente li state lasciando lì come sono incompetenti e ora il personale ha capito cosa deve fare adesso vediamo penso che devo rifarlo tutto è meglio si rifacciamolo aspettate ecco vai via vai via ma perché rimanete tutti quanti ammassati qua ecco ora metto un qualcosa grossissima ok perfetto ora vediamo cosa ci potrebbe servire ovviamente dei motori e i motori li mettiamo qua sotto dai ok ora è perfetto oddio cosa sta succedendo ma è tenuto benissimo stima potenza che basta che esplosa esploso direttamente va bene wow wow guardate come vola mettiamo una cosa così è troppo piccolo pensavo che era una cosa gigantesca oddio è troppo piccolo no non mi serve questo serve questo è perfetto levati ecco ok e mettiamo questi qua ora andrà benissimo inutile non potete dire nient'altro non ci sono errori nella struttura penso ci serve ancora più tecnologia cosa potremmo aggiungere dai perché stai facendo così ah ma aspettate ma non c'è la struttura di sopra no non voglio sbagliare quindi come faccio a ritornare indietro questo no aspetta vabbè lo distruggo questo è un test fallito troppo pesante vabbè non era solo il problema della struttura chi ripaga questo guaio noi facciamo l'ultimo test questa volta andrà benissimo ve lo dico l'ho fatto interamente io non potete dire che ho rubato qualche idea no niente l'ho fatto interamente io allora vediamo come andrà benissimo in realtà si chiama navi shell punto è abbreviatissimo versione punto 3 sono gli scienziati possono capire il nome vediamo non so minimamente come funziona volevo dire so come dovremmo svolgere il nostro piano di volo va bene partiamo massima potenza che cos'era questo non lo so ora mettiamo questo che vedete sta andando benissimo ora mettiamo no ancora no per adesso lasciamolo così a massima potenza se sta andando benissimo adesso si sta divertendo gebedia va bene tanto poi la lasceremo nell'orbita nello spazio così come se fosse nulla una cosa normalissima la lasciamo lì prigioniero è un carcerato perché questo giallo se ne sta andando via non lo so tanto ora quando finisce penso di cliccare spazio si perché si scollega poi questo non lo possiamo usare ovviamente diventato rosso no smettilo di muoversi male ok cominciamo partiamo ma sta andando benissimo penso ora vediamo mettiamo per due per tre per quattro dai se genera per 5 non esiste va bene vai avanti vai avanti così perché si stiamo riuscendo beh guardate quanto sono professionista sempre più prova ok sentate un attimo un attimo per uno perfetto andrà sbattere si sta sballando tutto che sta succedendo sta per esplodere e dai che sta andando sta andando bene che sta andando bene uno scherzo ovviamente è una battuta allora cerchiamo di non so rallentare cerchiamo di fare il giro colossale così perde velocità non lo so allora vediamo wow ma quanto è professionista jebedia sta guadagnando velocità no cosa sta guadagnando velocità o no rallenta rallenta oh cazzita no sta cadendo sempre più velocemente non ci riusciremo jebedia inutile morirai aspettate anzi no apriamo il paracadute non si aperte paracadute è inutile che mi fate questa scena apriti apriti non si apre non si apre paracadute ah vabbè si è aperto ora ok dai che ci stiamo riuscendo ho dovuto sistemare manualmente il problema con paracadute perché c'erano degli hacker che non volevano salvare jebedia ah maledizione a questi hacker ah vabbè sta rallentando no aspetta calmo calmo qua stiamo arrivando stiamo per sbattere chi apri maledetto paracadute apriti apriti buttati evacuazione ok si è salvato va bene jebedia è sopravvissuto è andato il test piuttosto bene spero che vi sia piaciuto il video jebedia vi saluta da end1001 è tutto ciao ciao